I giovani sono la vera energia rinnovabile dell'Europa e da loro, dai giovani, dobbiamo ripartire per rifondare l'Europa. Cambiamo l'Europa non per, ma cambiamo l'Europa con i giovani. Questo è l'impegno che ci prendiamo ed è anche il titolo della pubblicazione di facile consultazione in cui trovate tutte le opportunità che l'Unione Europea offre ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. I giovani in Europa sono pochi, appena il 17,5% della popolazione, spesso sono poco considerati e valorizzati. Ogni giovane che non lavora, che non studia, rappresenta un dramma non solo per lui personale, ma una sconfitta di tutta la nostra comunità. Cari giovani, ecco le indicazioni utili per studiare, fare uno stage, fare un'esperienza di volontariato, fare attività sportiva, approfondire il vostro interesse culturale, avviare e finanziare un'impresa, lavorare in un altro paese dell'Unione Europea. L'Europa è la soluzione, non dobbiamo essere convinti, non il problema, ma l'Unione, così come oggi, è incompleta e va rifondata. Dobbiamo pensare, come diceva uno dei padri fondatori dell'Europa Unita, non tanto alle prossime elezioni, quanto alle prossime generazioni. Potete scaricare Cambiamo l'Europa con i giovani o richiederne una copia cartacee dal mio sito internet www.damianosofoli.it